Sono 110 mila i pazienti che si recano ogni anno nei vari punti di pronto soccorso di Piacenza, praticamente un piacentino su tre. Un dato in linea con la media nazionale che conferma quanto il pronto soccorso rappresenti sempre di più un punto di riferimento per la popolazione. Vedo una popolazione che negli anni ha sviluppato, come dire, una crede in un servizio e ha capito che quel servizio è un riferimento e si fida. È un rapporto che io vedo anche cresciuto in un contesto nazionale ma anche locale. Lo ha detto Andrea Magna Cavallo, primario del reparto di pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto, intervenuto ieri sera a Nel Mirino, la trasmissione di telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi. Una lunga chiacchierata in cui sono stati sviscerati tutti gli aspetti legati al funzionamento di un reparto cruciale per la vita di un ospedale. Fondamentale è la ristrutturazione del pronto soccorso avvenuta negli anni scorsi con l'adeguamento e l'ammodernamento degli spazi resi più funzionali rispetto al passato. L'accesso unico anche per il pronto soccorso pediatrico e quello oculistico ha permesso un'ottimizzazione del lavoro. Qui uno staff di 40 medici, decine di infermieri e tanti volontari è impegnato ogni giorno per garantire un livello massimo di assistenza a partire dalla fase di accettazione. L'obiettivo vero e proprio della fase di accettazione è quello di inserire amministrativamente il paziente in un programma informatico ma soprattutto di valutarne in qualche modo la gravità e la priorità e quindi di lì il paziente prende diverse strade nel sistema. Poi magari possiamo entrare nelle diverse strade. Poi c'è una seconda fase. Dal momento in cui il paziente viene affidato ad un'area di cura comincia un'altra fase che è la fase in cui si deve fare una diagnosi e si deve fare una terapia. Le repliche di Nel Mierino andranno in onda domani alle 21.30 e lunedì alle 17.00.